Si rinnova anche quest'anno ad Agropoli il Summer Campus. I volontari impegnati presso il Comune di Agropoli nel progetto di servizio civile nazionale Insieme per Crescere si occuperanno di intrattenere attraverso un progetto ludico-ricreativo bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni presso il Centrovisite Trentova, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Si tratta di un programma d'accoglienza nonché didattico e ludico-ricreativo sviluppato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli. Le attività di accoglienza saranno dedicate alla conoscenza e alla socializzazione tra i volontari e i bambini e tra i bambini stessi attraverso una serie di attività. Le stesse sono inserite principalmente in tre macro-arie tematiche, attività didattiche, attività sportive, attività ludiche e di svago. Saranno svolte dal 1 luglio al 31 agosto di mattina dalle ore 9 alle 13 e di pomeriggio dalle 16 alle 20. Il progetto accoglierà 20 minori al mattino e 20 al pomeriggio. La domanda di adesione, reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Agropoli e presso l'Ufficio Servizi Sociali, può essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli. Le domande saranno accettate secondo l'ordine di protocollo e fino al numero di posti previsti. Siamo pronti a riproporre anche quest'anno, afferma il sindaco Coppola, il servizio di attività ludico-ricreativa presso il centro Visite Trentova, una iniziativa che lo scorso anno ha avuto grande successo e continua ad essere richiesto, specie da mamme e papà che lavorano. Segue gli altri importanti servizi rimasti attivi nel periodo autunno-inverno e fino a primavera inoltrata della ludoteca del Nido e Micronido. Questo progetto, come gli altri, punta a creare nuovi spazi per la socializzazione e per il gioco. Grazie.